Forza Chiang Kong Italia! Guangzhou, Cina, Canton Fair. Nel complesso Over My Shoulder, che è il più grande in Asia, da più di 50 anni, ha preso il mostro importante il mostro del consumatore elettronico in Cina, il Canton Fair. Il Canton Fair 2016. Cangong, con il suo bello bello, partecipava come leader. Il Canton Fair 2016. Il Canton Fair 2016. Un'ottima tecnica in Cina, il disponibile a chiang ong. Il Avvenuto per esempio Grazie per tutti! una macchina degli tanti, di 88-inch, di 8K, il TV. TV, una delle più avanzate TV del mercato. 75 inch di alta risoluzione, 4K TV, una delle più grandi TV del mercato. E' il primo con un dual chip in sull'engine. E' anche un controllo remoto ergonomico con la voce attivata. E' anche un controllo remoto ergonomico con la voce attivata. Oled è la più grande tecnologia per la TV. Questo significa che la qualità del video è molto alta, perché il mercato è molto profondo e il colore è molto semplice e realistico. La forma curva della TV ci permette di essere dentro del film, o del film, o del sport, in ogni ruolo. Un piccolo selezione di TV producata da Chang'ong. Chang'ong produce TV da 19 a 65 inch in diverse configurazioni. Tutte le TV sono possibili per avere il servizio di satelitore all'interno. La maggior parte sono delle TV smart, quindi connessione con il NET per ammigliare il contenuto multimediale. E la maggior parte sono delle TV 4K, come questa, che è una 4 TV smart con un sistema Android e con un design curva di formazione. Il compresor è il centro di ogni friggio. Non molti conoscono che Chang'ong è la principale produzione del compresor. tra i nostri prodotti, i nostri prodotti, i nostri prodotti, che hanno anche una prodotti in Europa, in Barcelona, per produrare i nostri prodotti più importanti in Europa. Un piccolo domande per il nostro servizio. Perché i nostri prodotti e i nostri prodotti sono così buoni per il mercato? Come sai, i nostri prodotti è il numero 1 del prodotti del prodotto. In questo mondo, ci ci aiutiamo il migliorno e ci aiutiamo il migliorno e ci aiutiamo il migliorno e ci aiutiamo per il futuro e aiutiamo tutti i nostri prodotti a vivere una buona vita di salute. Grazie. Grazie. Here is a short selection of fridge products. Chang'ong produce fridge from 45 liters to the big four door to satisfy every need of the market. Welcome to the coldest area of the booth. In this area, there is a small selection of air conditioner produced by Chang'ong. Chang'ong produce a wide range of air conditioner system for domestic and professional use. They use many technologies in their products. Including the low consumption in standby only half watts. The fact that they use the original and the patented C shape evaporator and this gives to Chang'ong the leader position on the market of air conditioner. Welcome to the future. This is the chic area. In this area Chang'ong put all the new products, the latest products with the highest technology. Some examples. The air conditioner system with the camera able to detect the people that are in the room and set the temperature depending on the people in the room. Smart TV always connect to internet and with the rest of the house able to give you a real home theater experience thanks to the home theater system on the bottom. The fridge. Even the fridge connected to internet with a huge display that works with the Android system able to control all the function of the fridge and connect with the rest of the house. Could you please explain what is the function of these units? Yes. Of course. This is not only a power bank but also it can be a storage. It can be used to connect with the mobile phone. so through this it can transmit the Wi-Fi so our mobile can receive the Wi-Fi from this and also our videos in our mobile phone can also be put into this small thing. And it's also portable. It's designed for women. Especially for women. Yeah. I think it's really functional. so yeah. That's all. Thank you. How do you transform your living room in one cinema or sport arena? Simply by using the chic 100 cinema display. A video projector short range able to create up to 150 inch screen simply and without installation.